C'era un mio amico che vive a Dubai, che però è delle mie parti, mi ha consigliato di partecipare a questo concorso che permetteva di suonare il caso di Vittoria GQ di Dubai, ho controllato, ho visto e ho caricato la mia traccia sul sito di Fame Music, sono riuscito a passare la prima fase man mano arrivare in finale e poi riuscire a vincere. C'era molta gente, molta gente interessata ad ascoltarmi, è stato un bel evento, davvero come me lo aspettavo, sono stato felice di tutto questo. Ho portato la mia ragazza, sicuramente è una grande esperienza, infatti devo ringraziare i Fame Music per questa opportunità, penso che tante persone sarebbero dovute essere al mio posto, perché non è da tutti arrivare a Dubai, suonare, fare quello che uno sogna. Non penso che ci saremmo arrivato qui a Dubai se non era grazie a Fame Music, ti segue man mano, non ti lascia, io ho vinto però nel frattempo mi ha seguito Fame Music, mi ha pubblicizzato, mi ha sponsorizzato, quindi aiuta molto a crescere anche come personaggio artisticamente. Grazie. 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 Grazie a tutti